Dalia per le donne è la nuova applicazione della regione Piemonte per il contrasto alla violenza contro le donne che, grazie alla geolocalizzazione e a un semplice tasto rosso sullo schermo del cellulare, permette di avvertire del pericolo o un numero preimpostato o direttamente le forze dell'ordine, ma anche trovare e contattare uno sportello o un centro di violenza vicino alla propria abitazione o luogo di lavoro e ricevere supporto e consigli utili. Per usufruire dell'app sviluppata con il CSI Piemonte basta accedere al sito www.daliaperledonne.it da PC e attraverso un QR code scaricarla sul proprio smartphone qualunque esso sia. Grande è la soddisfazione dell'assessore regionale alle pari opportunità Chiara Caucino, che ritiene l'avvio di Dalia un'iniziativa di fondamentale importanza e, purtroppo, di stretta attualità. I dati ci dicono che una donna su tre ha subito nell'arco della propria vita almeno un episodio di violenza, sia fisica o psicologica. Caucino ha poi ricordato che in Piemonte si contano 21 centri antiviolenza e 13 case rifugio, coordinati in modo integrato alla rete dei servizi sociosanitari. Nel 2022 sono state seguite 3.453 donne presso i centri antiviolenza e 71 sole o con figli hanno trovato ospitalità nelle case rifugio. Per richiedere aiuto si può anche contattare il numero 1522 per telefono via e-mail attraverso i social network o presentarsi di persona presso gli 80 sportelli o i punti contatto mobili. Grazie. Grazie.